I carabinieri sono impegnati in numerosi servizi contro la criminalità organizzata ma anche contro la micro criminalità. Il risultato di oggi dà una doppia soddisfazione perché l'arresto è stato compiuto da un carabiniere libero dal servizio. Prova evidente che sono due occhi che si aggiungono ai numerosi occhi di altri carabinieri in borghese e in uniforme che effettuano numerosi servizi preventivi nel centro della città. Noi siamo sempre disponibili attraverso il numero 112 a fornire la nostra piena collaborazione per cui ogni cittadino che voglia dare una segnalazione è sicuramente ben accetto.